Nella puntata precedente di Faro Universe Infinite Quella figa molla di Chica non voleva attaccare Potto E si fece attaccare come una deficiente tavoletta muscolosa Lo stand di Potto E Potto corrotto attaccò Assalemme Ma quella c'è il trono di Ota E mamma mia senza capo sembra morire Però Si è attivato involontariamente il potere stand di Ota Dirt Team 4 Dead Chief Un'ora abbastanza lungo E infatti sconfisse tavoletta muscolosa E Assalemme, Kurochika e Brata Corruzione Potto Mamma mia tutte cose a me stanno capitando Porca Troia Un'ora abbastanza lungo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti